Raga lo vedete tutti quanti ragazzi lo vedete tutti quanti c'è un hacker in questa lobby Non so se è un hacker però hanno hackerato il gioco di stumble guess in questa partita C'è stato super slide all'inizio che era normale invece poi c'è stato questo Che adesso vedrete se gli appare super slide vuol dire che è stato hackerato Block dash ma adesso vedrete raga Allora una cosa intanto i bot avete visto all'inizio che stavano fermi E poi cosa ci fa un hacker che nessuno ha il nome così comunque raga Io l'ho visto nessuno aveva il nome Poi avete visto all'inizio sempre del video che c'era un Che i pali erano invisibili ecco secondo voi era un hacker Scrivetemelo nei commenti Comunque io raga non c'è stato dell'editing oggi nella area 51 nel mio canale youtube Si di cap cute raga Comunque cioè adesso forse l'hacker è stato eliminato speriamo E block dash mi sa che questi sono pro player quindi non finirà mai e io registrerò finché non finisce raga Allora eliminati i sette ok questa la partita dovrebbe andare bene Cioè dovrebbe essere normale intanto noi facciamo i nostri compiti tiriamo pugni Oddio No scusate avevo sentito una voce scusate Saltato male non c'è problem Eh no 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 E va bene